Noi su questo territorio stiamo vivendo, lo ripeto, una grandissima crisi, una crisi che ci porta per il prossimo anno scolastico ad un evento nuovo, ovvero l'eliminazione del primo anno delle scuole serali al Datini, al Dagomari e al Buzzi, perché non c'è organico. Noi in questi anni abbiamo perso tutto l'organico che avevamo per un errore tecnico nella normalità, ora che ci servirebbe? Ulteriore tecnico non l'avremo e anche quest'anno abbiamo chiuso con meno 20 classe alle superiori per mancanza di organico.